Ennesima stretta del questore dopo le risse recenti in centro, la questura mette sotto stretta vigilanza 100 soggetti ritenuti pericolosi. Per la maggior parte sono minori ospiti delle comunità, per minori non accompagnati sono persone che secondo le ricostruzioni della questura si contendono in città le piazze di spaccio, dalla villa comunale al castello, coltelli e altre armi a te offendere, episodi che preoccupano sempre di più. Ma non è l'unica misura perché il questore Enrico De Simone è stato chiaro mettere in campo altre misure di prevenzione, soprattutto controlli serrati sulle comunità. Intanto per i protagonisti degli ultimi episodi arriva il Dacur come provvedimento, il divieto di accesso alle aree urbane. L'ultimo episodio è di mercoledì sera quando un ragazzo etiopo è stato accoltellato, ma comunque in questo caso si trattava di maggiorenni e anche di ragazzi del posto. Intanto la polizia ieri ha intensificato i controlli e ha fermato quattro persone al castello per droga. Ad oggi sono 140 ai minori nelle sette strutture di accoglienza del territorio, un numero in continua crescita. C'è da dire che la sua comunità a crescere insieme non è stata mai coinvolta in questi episodi recenti ma anche passati di risse, però una riflessione diciamo a livello generale. Il fenomeno c'è, ora il questore ha messo sotto stretta sorveglianza 100 minori non accompagnati, farà anche più controlli nelle comunità. Non sempre e non solo sono minori, quasi mai sono all'interno del circuito di accoglienza con progetti strutturati, ma spesso sono ragazzi che nelle nostre strutture transitano per poche ore, creando magari anche dei problemi a noi, alla sicurezza dei nostri operatori e degli altri ragazzi per poi uscire e magari compiere atti delinquenziali. Io credo che c'è bisogno sicuramente di una risposta di polizia, di una risposta di controllo del territorio, ma c'è soprattutto bisogno di una risposta educativa. Noi dobbiamo offrire strumenti educativi di strada a questi ragazzi perché noi nelle nostre strutture non li intercettiamo, quindi bisogna andare per strada con gli educatori, con gli psicologi, con gli assistenti sociali per intercettarli e proporle alternative a una vita di stenti, di difficoltà, perché poi non dimentichiamo che sono comunque poco più che bambini. Noi li vediamo, l'opinione pubblica li vede come delinquenti, come persone pericolose, ma poi in realtà si tratta di 14, 15, 16 anni e quindi hanno bisogno di protezione come gli altri. Ma noi siamo i primi a segnalarlo sia alla polizia sia ai carabinieri, abbiamo interlocuzioni in corso con le forze dell'ordine praticamente quotidiane perché comunque noi il fenomeno in qualche modo lo sfioriamo. Però ripeto, i nostri progetti educativi sono incentrati sulla maggioranza dei ragazzi stranieri non accompagnati che vivono il territorio, che vanno a scuola, che fanno sport, che sono perfettamente integrati.